Giu, Livi, ci dica com'è andata. Bene, ho notato qualcosa l'altro giorno quando Gianni Carlo è tornato a casa. Giu, Livi, giù. Tesoro. Tesoro, ti senti bene? Certo, perché non dovresti sentire bene? Non riesco a non stare in pena. Dopotutto nella tua cosione, tutto il giorno qui sola a badare a quei cani. Quei cani? Quei cani? Non mi aveva mai chiamato così. Beh, adesso vicina, non ce la stia a prendere a conesto modo. Ti ricordi che in fondo sono soltanto uomini? Proprio così, come diceva mio nonno.